Maestro, potrei avere il privilegio di suonare il sacro gong? Aia! Da quant'è che non ti confessi? Beh, c'era ancora Pertini e abbiamo vinto i mondiali 2006. 82. Mi sono innamorato. Dai! Ogni volta che la vedo mi agito, mi blocco, non riesco più a parlare. Manca, polizia, che roba! Io sono un cavaliere! Cavaliere? Qui? Sono del ferrovecio, della meccanica, della meccanica. Oh, è bella, meccanica, 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 meccanica. Hai rotto la freccia. E chi se ne frega? Metti fuori la mano e giri. Signor Puretti, proprio questi spermatozoi non vogliono vincere. Senta, dottoressa Frinzi. Gastani, Frinzi. Ma cosa dici? Tieni giù le mani, porca di quella puttana! Gastani, Frinzi, dei miei coglioni! Ehi! 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 Voglio il mio avvocato! Guarda che è un omaggio. Sì, ho capito, ma sto parlando. Per la signora. Sì, per la signora. Ma stai, ma portai, quella puttana! Che cazzo ci fai nella mia macchina? Sono entrato per riflettere e sono rimasto chiuso dentro! Esci da questo corpo deforme! Jack, quello di fianco, quello a sinistra... Ma di fianco quale? Minchia, Jack, quello! Lui è Jack amoroso, detto non tutte le ciambelle riescono col buco.